Sì grazie, saranno più che sufficienti anche perché la mia dichiarazione di voto è relativa al fatto che questa legge di semplificazione è un po' la fotografia di quello che sta accadendo in questo momento in Consiglio regionale. Ovvero abbiamo una giunta che propone dei provvedimenti che ci sembrano più estemporanei che inseriti in un quadro organico di visione per questa regione. E abbiamo una maggioranza che tenta di infilarsi all'interno di questi provvedimenti con una serie di emendamenti che a loro volta sembrano più che inseriti in un quadro organico volti a tutelare questo o quell'interesse. Poi il Consigliere Alparone questa mattina diceva occhio perché si rischia di snaturare i provvedimenti con troppi emendamenti. Se andiamo a vedere quanti sono stati gli emendamenti presentati dalla minoranza e quanti quelli presentati dalla maggioranza credo che vinca la maggioranza. Per cui è la fotografia questa legge di una conduzione abbastanza così disarmonica da parte della maggioranza e della giunta. Ciò nonostante avrete notato che noi su diversi articoli ci siamo astenuti perché entrando nel merito di questa legge di semplificazione qualche passaggio oggettivamente aveva degli elementi positivi che abbiamo voluto sottolineare. Tutto ciò però non riesce a emendare questa legge da quel vizio di fondo che sottolineavo in precedenza. Io mi auguro davvero che per il proseguio di questa legislatura a partire dal bilancio che ci troveremo a discutere tra poche settimane in quest'aula ci possa essere davvero un atteggiamento diverso anche nei confronti di quelle che sono le proposte che arrivano dai banchi della minoranza. Se andiamo a vedere molti degli emendamenti che noi abbiamo presentato erano emendamenti per questa legge di semplificazione assolutamente nel merito delle questioni con delle proposte dal nostro punto di vista non solo sostenibili ma anche assolutamente coerenti col disegno di semplificazione. Non abbiamo avuto grandi possibilità di venire ascoltati e ci siamo trovati davvero con di fronte un atteggiamento non dico preconcetto però molto molto di sufficienza nei confronti di quello che poteva essere il nostro contributo. Magra consolazione l'approvazione di due ordini del giorno di cui comunque siamo contenti perché riguardano la semplificazione per le sagre, le fiere, le manifestazioni minori e una cabina di regia regionale sulla semplificazione perché, e vado a chiudere, il tema vero della semplificazione non è quello normativo ma è quello che lo sottolineava anche la relatrice nel suo intervento e quello procedurale. Un problema di questa nostra regione è una cabina di regia interassessorile che possa semplificare davvero la vita ai cittadini. Per cui il voto nostro su questa legge sarà un voto contrario con la speranza che si possa davvero ricominciare a lavorare in maniera diversa e con una visione della semplificazione in questa nostra regione che stia attenta ai cittadini e non agli interessi di questo o quella categoria che purtroppo continuano a riaffiorare in maniera evidente anche all'interno del dibattito in quest'Aula.